Se volete aiutarmi a fare più Pink Slips e Contest nel mio canale acquistate i vostri crediti da FIFA Ultimate Team Coins Troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, mi iscritti e brutti, bentornati sui gioventi di Spò Io sono Giovi Spò e questo è Pink Slips di Tiago Silva Pagato 11.000 crediti, ora costo sui 9.000 crediti Volevo dirvi che ho fatto questo Pink Slips poco costoso perché ho intenzione di farlo in molti altri Anche oggi o domani non so di preciso Non so neanche quando caricherò questo video, ma vabbè Il nostro avversario, il nostro primo estratto non poteva giocare, ha detto che non poteva, ho estratto l'altro E ora quindi andiamolo subito, non perdiamoci in chiacchina, andiamo subito a diventare il nostro avversario Ed eccolo qui, è arrivato, 82, 82, 82 Non l'ho ancora visto la sua squadra, non ho potuto dargli un'occhiata perché sto facendo tutto in fretta, di fretta e furia Extreme BPL, accade a merda Senti cazorla per William Bug E tu, e tu, e tu colpo di testa di merda Cazzo di merda, che colpo di testa Vai dammi, Tiago Silva, vai Tiago Silva Spalla spalla, no, 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 bravo Jefferson, bel portiere, ho consiglio Jefferson, è davvero ottimo Ottimo, vai Santi cazorla, vai Santi cazorla, 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 no, non ci credo Di poco su quel lato, no, 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 bravo, vai, che cazzo sta tappa Finisce qui il primo tempo, 0 a 0, ancora 0 a 0, stranamente Abbiamo fatto pochi tiri in porta Ci stiamo studiando vicenda E quindi vediamo In questo secondo tempo regolamentare No, 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 no Non ci credo Due sono andati a saltare insieme a Due Nalfa Ma nessuno, ma è È una cosa impossibile Vai, Navasso, Navasso bravasso, mamma mia, un altro balco, quelli che si inciampano in una maniera in assoluta proprio, va bene così questo pareggio, Jovetic, il tiro di Jovetic, parata di Jack, no, no, grande Jefferson, che portiere Jefferson, era potentissimo questo tiro, però i difensori se ne sono andati a farfalline, scambio, tu regi, Suarez, apposta, mi ha perso, no, no, vai Davide, e dai Davide Witt, bastardo, bastardo, alzati, Davide Witt, stavi in anticipo Davide Witt, ma niente, niente, quando i bug sono assoluti, sono assoluti per tutti, prendilo Walker, e dai Walker, si è fatto, non altro gol di testa, a me meno male, c'è solo gol di testa subito oggi, è una cosa strana per questo gioco, forse, non è manco lento e vai Eton, ma come cazzo, è possibile sbagliare questi gol? Vabbè, vabbè, ecco, e fai un altro gol, perché giustamente, gol sbagliato, gol subito, è dura la legge del calcio, ma è così, se è tuo mio sbaglia, è tuo suo segna, e succede sempre così, ogni volta che, che io sbaglio un gol, facilissimo, devo subire sempre il gol, Ma non è una volta, magari fosse una volta, ogni volta che sbaglio un gol, che potevo fare, subisco il gol Ma va male, così, va proprio male, finisce qui, un'altra partita persa per, non so manco io se sia Falco, se sia la squadra, o se sia il gioco, che è una merda totale Si vince, si perde, giusto, ma perdere così, brucia di più di una sconfitta meritata, tra virgolette Non penso che sia stata una sconfitta meritata, almeno credo Non lo so, se l'ha meritato o meno, diciamo eravamo, e quali, di, le cose in campo, erano uguali, eh, vabbè, andiamogli a dare il suo premio, ma, la mia voce si conclude qui Se il video vi è piaciuto, mi invito comunque a lasciare un bel pollice in su, o a meno per supporto Continuate a seguirmi, mettete mi piace alla pagina Facebook, trovate il link qui sotto in descrizione Se non siete iscritti, iscrivetevi, già Iscrivetevi e basta, non già, iscrivetevi E noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video Ciao, bello a tutti Lasciate mi piace E alla prossima Grazie a tutti